Ciao mamme per la pelle, io sono con voi, ma realisticamente sono con voi. Non pretendo di fare tutto nella mia vita, ma alcune cose le voglio fare bene, oggi, domani, e in particolare sulla vostra battaglia quotidiana, con il dispiacere delle problematiche che avete, io ci sono oggi e ci sarò sempre. Saluti.